Buonasera, siamo in compagnia di una fantastica festeggiata che andremo a conoscere con le prime domande Ciao, come ti chiami? Raffaella 2F2L Quanti hanno sbagliato? 20 per gamba Ah, quanti anni? Pensavo quanti avessero sbagliato Vabbè, comunque, 20 anni per gamba, faccio finta di non sapere fare i calcoli Sei giovanissima Allora, da dove arrivi? Raffaella con due F e due L Oflaga Oflaga, che c'è pure una canzone di Oflaga Certo, la bella di Oflaga, la famosa bella di Oflaga Pensa che il DJ sa anche bella di Oflaga Cosa fai nella vita, se si può stiglio? L'insegnante Tanta pazienza, eh L'insegnante a che livello? 70 centimetri? Meno, asilo nido Ah, che dolce Mamma mia, Raffaella, ragazzi Allora, avrai tutti i cuccioli sparpagliati per la classe Sì, sì Vuoi salutare qualche cucciolo? Sì, tutti i miei bambini che non sono abituati a vedere la maestra così Solo con la vestaglia e le ciabatte Anzi, io ti consiglio di andare a recuperare queste video interviste Magari proporla così nell'aula educativa In modo di dire, guarda la maestra cosa fa di sera Fa la brava, perché la maestra è brava, bimbi Dovete sapere che la maestra non ha due facce È una sola Raffaella di Oflaga È una così, ogni tanto, ho capito È giovanissima Ma perché ti allontani? Vieni qua, mi sta facendo venire su il torcispalle Allora, c'è intanto la fruttivendola C'è la mia fotografa C'è la fotografa a fruttivendola Sì, sì, sì Come si chiama? Officiale Monica, detta Monica Banana Oddio Monica Banana Ciao Monica Banana Fantastica Ritorniamo da Raffaella Mi è simpatica Raffaella Certo Vieni un segreto Lei si chiama la mia amica Monica Banana Per quale motivo? Che lei all'ingresso del suo negozio fruttivendola Ha una scritta Con Riportato Chi palpa la frutta Riserverà lo stesso trattamento Allora tutti gli uomini che entrano in negozio da lei Toccano tutti i tipi di frutta Così lei tocca tutti gli uomini Questo è il risultato del suo negozio di Monica Beh, lo consigliamo a tutti ovviamente Fate i chilometri per questo fruttivendola Questa fruttivendola qui però Mr. Day, Mr. Day Allora, siamo veramente arrivati alla frutta Siamo arrivati veramente alla frutta Andiamo a salutare, augurando Buon compleanno a Raffaella 20 anni per gamba Quindi due baci per parte 20 anni per gamba Due baci Uno per parte Giusto? Sì, due baci 20 a destra 20 a sinistra Buon compleanno a Raffaella Buon compleanno a Raffaella Buon compleanno a Raffaella